Hanno portato a termine solo i lavori cominciati dall'Aggiunta Martinelli. Il consigliere d'opposizione Luca Vignoli non ci va per il sottile e accusa l'amministrazione Gaspari di immobilismo politico. Un'accusa che Vignoli ha maturato sfogliando il programma triennale delle opere pubbliche 2007-2009. Ben 22 i lavori promessi rimassi sospesi per non dire irrealizzati. Tra questi la sistemazione di via Montebello, il collegamento delle acque bianche in piazza San Giovanni, la riqualificazione del mercatino di via Mazzocchi, la sistemazione di via Crispi, la riqualificazione di via Mare e molti altri interventi. Alcuni arrivati a compimento come il Teatro Concordia, la riqualificazione di Viale delle Palme e di Viale dei Gasperi così come il Completamente o di Via Tronto, ma solo perché, sottolinea il consigliere, erano già stati finanziati dall'amministrazione Martinelli. E' uscito il nuovo piano triennale delle opere pubbliche dell'amministrazione Gaspari che va dal 2010 al 2012 e noi come opposizione, come minoranza, non possiamo non rilevare che in questo piano ci sono inserite decine e decine di opere che erano già state previste e promesse alcune addirittura tre, quattro anni fa. L'esponente del PDL cita anche la piazza fantasma di San Pio X, attesa da 30 anni dal quartiere, e i project financing avviati dal centro-destra e che ora arrivano a conclusione, cioè il Palariviera e il Palazzo di Viaturati a Porto d'Ascoli. L'ultimo attacco è per il vicesindaco Antimo Di Francesco che aveva annunciato 2 milioni di euro per il bilancio partecipativo e addirittura un concorso di idee per riqualificare via Mare. Quindi questo ci sembra quanto modo indicativo della scarsa programmazione di questa amministrazione, che promette ai cittadini di realizzare opere pubbliche già da diversi anni, ma poi nei fatti concreti ne realizza poche, se non addirittura quasi nessuna.